Bene Nicola, grazie, soprattutto attenzione nei prossimi giorni a tutto ciò che è illegale e a che fare con i fuochi d'artificio. Speriamo di non dover dare notizie esplosive. Ecco, hai ragione Tony. Allora, se la regia mi conferma dovremmo collegarci tra pochissimi istanti con la via dei presepi per eccellenza San Gregorio Armeno a Napoli dove c'è una bottega storica, quella della famiglia Ferrigno. Lo vedo già collegato, il maestro dell'arte presepiale Marco Ferrigno in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno a loro. Buongiorno. Maestro, siccome ci porta nella sua bottega, se vuole provare a mettere il telefono in posizione orizzontale avremmo il piacere di vedere ancora meglio il luogo dove lei si trova e dove opera. Grazie. Esatto, c'è uno sfondo meraviglioso che riusciamo a intravedere. Allora, maestro Ferrigno, una storia che sa di tradizioni e famiglia, quella appunto dell'omonima bottega di Napoli. Lei ha ereditato ed imparato l'arte del presepe da suo padre Giuseppe. Allora, ci racconti un po' le origini della bottega Ferrigno a Napoli. Allora, una bottega che nasce per amore del mio Trisavolo Carmine, il quale aveva appunto questa passione del fare il presepe. Questa poi passione è diventata un po' quella che sarebbe diventata la professione delle susseguenti generazioni. viene trasmessa a mio nonno Salvatore, quattordicesimo di diciannove figli, quindi famiglia numerosa, che a sua volta continua questa tradizione di famiglia numerosa, facendo addirittura tredici figli. L'undicesimo era mio padre. E solo lui, per una serie di circostanze, continua un po' quella che è la tradizione presepiale napoletana. Napoli senza il presepe, senza via San Gregorio Armeno non sarebbe la stessa. Ecco, un po' il presepe mi fa ricollegare alle parole che stava dicendo adesso, quelle che ci richiamano la famiglia numerosa, che magari tante volte per andare avanti deve fare anche leva sulla semplicità e sulla genuinità delle cose. Quindi quanto, secondo lei, l'arte presepiale e la vita e la storia della vostra famiglia si fondono in quest'arte? Tantissimo. Secondo me sono due cose che vanno veramente di pari passo. Senza l'amore e la passione forse nessuna delle generazioni avrebbe portato, visto le tante difficoltà che sono state negli anni passati, avanti questa professione. Diciamo che adesso è una professione un po' in auge, perché Napoli è vista come veramente città meravigliosamente invasa dai turisti, ma abbiamo avuto dei periodi veramente particolari, periodi in cui spesso e volentieri eravamo scoraggiati. Io mi ricordo che mio padre, io mi ricordo San Gregorio Armeno all'inizio degli anni 80, era praticamente una strada deserta dove solo mio padre contribuiva a quella che poi sarebbe diventata San Gregorio Armeno. Immagini che il lavoro era completamente diverso, si iniziava il primo di novembre e si finiva il 25 di dicembre, dopodiché le botteghe o chiudevano o addirittura si organizzavano per altre cose. Io mi ricordo perfettamente che a fianco a me c'era un sarto che in questo periodo mettiva i pastori e poi dopo continuava quello che era il suo lavoro di diciamo cucire vestiti. Sì, oggi è cambiato tutto. È vero, è proprio così e siamo naturalmente felicissimi di poter vedere una via di San Gregorio Armeno veramente piena, gremita di persone. Maestro, la tradizione napoletana prevede anche statuine che si ispirano a personaggi contemporanei. Quali sono stati quelli più gettonati in questi ultimi anni? Allora, quest'anno stanno diciamo stando all'attualità il più gettonato è Sinner. Negli anni passati diciamo fino a 5-6 mesi fa i giocatori del Napoli la facevano da padrona, anche il momento particolare della squadra, ma non solo. Anche i mister Spalletti, un po' quelli che hanno contribuito a questa impresa. Dopo 33 anni portare uno scudetto a Napoli. Di solito le statuette sono un po' più o meno quello che rispecchia un po' l'attualità. Tre anni fa per esempio fu il periodo di Diego Armando Maradona, il quale fu riproposto in una versione con le ali, visto che da poco ci aveva lasciato. Due anni fa è stato il periodo della Melone, quindi sono un po' quella che è l'attualizzazione della nostra società sul presepe. In un presepe però ecco come sappiamo non possono mancare le figure tradizionali. Le chiederei qual è quella a cui lei personalmente è più legato? Ma ce ne sono un po' di... diciamo di... ce ne sono diverse. Forse quella a cui sono più affezionato è Benino. Benino sarebbe il pastore che dorme. Il pastore che dorme che cosa sogna? Sogna appunto il presepe. Diciamo che lui è un pastore fondamentale, forse quasi quanto Gesù, e guai a disturbarlo in questo suo diciamo sonno disincantato perché sparirebbe quella che è la magia del presepe. È bello, molto bene. Maestro Ferrigno che cosa ha in conclusione, che cosa si augura per il nuovo anno? Mi auguro che Napoli continui così, perché veramente è il giusto riconoscimento dopo tanti anni di diciamo di maltrattamento. È una città che veramente accoglie tutte le persone che vengono in un modo unico, in un modo molto semplice, con il calore di noi persone. E soprattutto, sa che cosa mi auguro? Che quando loro vanno via, vanno via con quello stupore. Soprattutto dicono, ah ma Napoli è veramente così, è diversa da come ce la immaginavamo. Bello, bello, bello pensare a Napoli come un grande presepe che nella sua semplicità conquista i cuori di tutto il mondo. Napoli ha anche le zone limitrofe. Maestro, la Campania è meravigliosa. L'aspettiamo a San Giovanni Rotondo, perché la Campania è molto, molto devota al Santo di Pietrelcina, anche perché Padre Pio è nato a Pietrelcina e provincia di Benevento. Anche noi siamo molto devoti a Padre Pio. Che meraviglia, grazie maestro per questo omaggio che davvero ci commuove. Che bello, grazie. Vi aspettiamo in studio con quel Padre Pio. darà un piacere. Immagini che è stato un frate nel 1223, 800 anni fa a creare il presepe. Quindi ogni anno, ogni tanto bisogna un po' rispolverare questa tradizione. Esatto. Un grande santo San Francesco d'Assisi. Grazie di cuore, maestro, per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti.